2 3 5 3 3 4 4 5 9 10 16 ragazzi fatti vedere insieme non è ognuno una parte il passaggio dietro lo dava Giulio ci siamo bravo angolo dai 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 ognuno solo uno ognuno solo uno lascia fare il palo uno copertura bravo Nicco calma bravo bravo Gabri bene bene l'idea buona Gabri vieni dentro bravo tira oh grande Gabri ragazzi un po' più attivo Neri un po' più attivo non stare lì stessi metri quadri Niccolò appena partita indossato via via sali non ti preoccupare non lasciare spazio bravo arriva bene buono bravo Gabri molto bene mi piace molto tieni tieni buono abbiamo arriva ciao buona abba